La femmina abbracciata al maschio. Secondo antiche fonti, Reggio fu fondata da calcidesi emigrati a causa di una carestia e accompagnati da messeni costretti a espatriare perché avevano usato violenza alle vergine spartane. Un oracolo aveva ordinato loro di fondare una città dove avrebbero visto una femmina abbracciata a un maschio. Trovarono una vite avvolta intorno a un leccio, in altre versioni un fico selvatico, e convinti che quello fosse il luogo indicato dal Dio, lì si fermarono e fondarono Reggio. Il silenzio delle cicale. Gli antichi affermavano che le cicale di Reggio erano mute, cosa che non si verificava in alcun altro luogo, e tanto più sorprendente in quanto le cicale della vicina Locri e Pizè Firia erano eccezionalmente canore, ma c'era un perché. Le cicale di Reggio avevano disturbato con il loro strepitio il sonno di Ercole, che aveva ordinato loro di stare zitte, e le povere bestiole non avevano mai più rotto il silenzio imposto dal Dio. Sette fiumi per Oreste. Nei pressi di Reggio, dice Varrone, scorrevano sette fiumi. Oreste, figlio di Agamennone, che poteva riacquistare la ragione, perduta con l'assassinio della madre Clitemnestra, solo lavandosi in sette fiumi scaturiti da una stessa sorgente o in una fiumana formata da sette fiumi, qui approdò, tornando dalla Tauride con la sorella Ifigenia. Qui si lavò, qui rinsavì, appese la spada ad un albero ed edificò un santuario da pollo, in un laureto dove i reggini andavano a cogliere un ramo dall'oro ogni qualvolta dovevano inviare una delegazione a Delfi. Ibico. Io cantoreggio l'estrema città dell'Italia marina, che si abbevera sempre all'onda di Trinacria, poi che all'ombra d'un olmo frondifero ella ibico pose, amante della lira, amante degli efebi, saggio di molte delizie, e intorno al suo tumulo sparse, folta l'edera e i boschi della pallida canna. Questo epigramma anonimo dell'antologia palatina attesta l'esistenza della tomba di Ibico, antico poeta e musico al reggio, dove nacque intorno al principio del VI secolo, figlio forse del legislatore della città, e si vuole che egli stesso fosse eletto tiranno, ma a quella carica preferisse l'esilio, onde il detto più ingenuo di Ibico. Una famosa leggenda narra che, sbarcato sulla solitaria spiaggia di Corinto, in Grecia, fu assalito e ferito mortalmente da una banda di predoni. In quel momento vide passare nel cielo uno stormo di gru e le invocò a testimoni del misfatto e a sue vendicatrici. Più tardi, a uno spettacolo, uno degli uccisori vide passare nel cielo uno stormo di gru ed esclamò, guarda le vendicatrici di Ibico! I presenti lo udirono, e la frase riferita portò alla scoperta e alla condanna dei malviventi. La tomba a piede. Tra le tombe che gli scavi hanno messo in luce fuori della cerchia delle antiche mura di Reggio Calabria, una è in terracotta e ha la forma di un piede calzato di un sandalo. La conversione dei reggini. Uno fra i più splendidi templi di Reggio, antica, era quello a Diana Fascelide, nella baia detta De Giunchi, presso il quale ogni anno tutti i cittadini si raccoglievano a celebrare la festa della Dea. Proprio in uno di questi giorni di festa, nella baia venne a dar fondo una nave che portava a Roma, dalle province d'Oriente, alcuni prigionieri, fra i quali San Paolo. Ceso a terra, il santo si diresse al tempio, montò sulla scalinata, e prese ad arringare la folla, parlandole del suo Dio e della sua fede. Un po' per curiosità, un po' soggiogata dalla sua eloquenza, la folla lo ascoltò, senza fiatare, finché Paolo non prese a inveire contro gli dèi. Allora tutti insorsero e gli imposero il silenzio. «Ascoltatemi ancora un momento», disse il santo, «quanto durerà questo pezzetto di candela?» E mostrò un mozzicone che aveva in mano lungo un dito. «E va bene, lasciamolo parlare», dissero i reggini. San Paolo accese il mozzicone, lo posò in cima a una colonna di marmo e riprese il sermone interrotto. I sacerdoti di Diana, impensieriti per l'attenzione con cui i loro fedeli l'ascoltavano, spiavano l'accorciarsi della candela e già respiravano sollevati vedendolo agli ultimi guizi, quando dal mare venne una ventata che piegò la fiammella verso il fusto del marmo, ed improvviso quello s'accese, come una torcia, in una vampata crepitante. Impressionati dal prodigio tutti i reggini quella notte si fecero cristiani. Il tronco di colonna, con la cima carbonizzata come un tizione, si conserva ancora presso la cattedrale di Reggio. La fata Morgana. Un re barbaro, con le sue orde di uomini a cavallo, aveva percorso da conquistatore tutta la penisola. Giunto sulla punta dello stivale, dovette fermarsi davanti allo stretto di Messina. Di là da esso, vedeva un'isola, che destava la sua non ancora sazia cupidigia, ma non poteva raggiungerla perché non aveva barche. D'improvviso si trovò accanto una splendida donna, che gli disse sorridento, «Tu vuoi quell'isola, vero? Ebbene, eccola, te la dono. Guarda, è a due passi da te». E di fatti, fissando l'acqua, il re vide nitidi, come se distassero da lui solo pochi metri, spiagge e aranceti e uliveti, un porto fitto di barche, sentieri di campagna, casette di pastori. Con un grido di trionfo il re scese dal cavallo e si gettò in acqua, credendo di raggiungere l'opposta sponda in due bracciate. Ma la bella donna era la fata Morgana. Il barbaro annegò miseramente. Il prodigio si ripete ancora, nei giorni limpidi della tarda estate, a Reggio, nelle acque prossime alla riva. Si può vedere specchiata la costa della Sicilia, con case ed alberi, barche e persino gli uomini sulle banchine del porto di Messina. La barca di San Francesco. San Francesco doveva attraversare lo stretto di Messina, ma non avendo denari non riuscì a ottenere il passaggio da un barcaiolo. Stese allora il mantello sulle onde, vi piantò un bastone e con quell'improvvisata barca a vela filò col vento in poppa alla volta di Messina, a scorno e mortificazione del barcaiolo che s'era lasciato sfuggire il destro di fare un piacere a un così grande santo, che non era Francesco d'Assisi, ma Francesco di Paola della Calabria. Il santo e i contrabbandieri. In una grotta nei pressi della costa calabrese viveva un tempo un romito di nome Sant'Elmo, che campava andando in giro a chiedere le elemosine. Ma un brutto giorno morì suo fratello lasciando sette figlie. Il povero Sant'Elmo si trovò con altre sette bocche da sfamare. Come raccogliere abbastanza cibo per tutti? Sant'Elmo spiegò il buon Dio che l'aiutasse e una notte vide comparire un uomo gigantesco con una lanterna accesa. Era San Cristoforo e gli spiegò che quella lanterna lui doveva accenderla di notte, specialmente quando era a tempo cattivo, e metterla su di uno scoglio per far lume ai poveri contrabbandieri in pericolo sul mare. Così fece Sant'Elmo, e da allora non andò giorno che i contrabbandieri riconoscenti non lo mandassero a casa carico d'ogni bene di Dio. Ancora oggi il buon santo scende dal cielo con la sua lanterna quando infuria la tempesta e salva le navi in pericolo. La moglie del Saraceno Alla fine d'aprile del 1453 una flotta turca di 200 legni al comando di Kair Eddin Barbarossa salpava la volta dell'Italia meridionale, a rinnovarvi le devastazioni che da decenni la desolavano. Il 20 giugno dava fondo alle ancore di fronte al reggio. I cittadini fuggono o sono massacrati. Dopo una brevissima resistenza il gentiluomo spagnolo che regge il castello Don Diego Gaetani alza la bandiera bianca. Il Barbarossa entra nel castello. Don Diego ha una figlia, Flavia, tanto bella che quando la vede Kair Eddin vuole soltanto lei, lascia libera tutta la sua famiglia e anche il suo fidanzato, Don Alvarez de Guzman, e si porta via Flavia sulla capitana. Qui la ragazza abbiura la fede cattolica, si converte all'Islam e diventa la moglie del famoso Saraceno.